Il nostro sguardo cade anche su delle statue, su dei quadri che raffigurano la Madonna, che raffigurano i patroni della parrocchia. E guardando queste statue o questi quadri, noi sappiamo che possiamo avere in cielo come intercessore la Vergine Maria, ma anche i santi protettori, non solo, ma se queste statue sono vie, è per incitarci a fare i nostri i modelli di vita che questi santi hanno incarnato, le virtù che hanno realizzato nella loro vita. E allora vi inviterei in questo momento un po' a immaginare che le pareti di questo palazzetto siano tappezzate da tanti quadri o siano arricchite da tante statue, ma i volti di questi quadri, i volti di queste statue, li mettiamo noi, mettendoci delle persone care, mettendoci appunto dei nomi, delle nomi, dei papà, delle mamme, dei giovani che abbiamo conosciuto, che ci hanno lasciato, e che portiamo nel cuore con nostalgia, con gratitudine, pensando spesso a loro per ispirarsi a fare il bene. Sono i santi di casa nostra, sono i santi che oggi vogliamo onorare, che sentiamo presenti in questa Eucaristia, pensiamo a tutti gli scout che ci hanno preceduto, che sono stati ricordati all'inizio di questa Messa. Li ricordiamo, ma non come persone assenti, certo sono invisibili a noi, ma la loro presenza è reale, intercedono per noi, presso il Signore, per il nostro cammino. E vogliamo prenderli come modelli, per quello che di bello hanno costruito nella vita. Sant'Agostino, parlando dei santi, dice, se questo è quello, perché non io? Se questo è quello, sono vissuti così, così bene che vogliamo ricordarli. Perché non dovrei vivere così io? Il facevo ci dice che per vivere come Gesù, per vivere secondo quella vita di figli di Dio che ci ha donato con il bandesimo, dobbiamo fare per le beatitudini la nostra carta d'identità, la nostra magna carta del Beato Frassati, di Pier Giorgio Frassati. Si dice che, si è scritto, che è stato il giovane delle otto beatitudini. Ha vissuto quelle beatitudini che sono state proclamate. Ma questo potremmo dirlo, di tutti i santi, vivere le beatitudini. Perché le beatitudini sono state il programma di Gesù. E se noi vogliamo amare Gesù, dobbiamo fare il nostro ismoia ideale. Le beatitudini non sono semplicemente la via per renderci felici, ma sono la via per costruire un'umanità bella. Sono atteggiamenti che risanano l'umanità. I santi che vivono le beatitudini sono i veri amici dell'umanità. Vivendo le beatitudini non costruiamo qualcosa di intimo che vale per noi stessi. È il contributo migliore che noi diamo alla costruzione della società. E mi viene da dire soprattutto in questo momento storico, traumatico, se noi viviamo la povertà, la beatitudine della povertà, dell'amichezza, della misericordia, possiamo contribuire a sciogliere le conflittualità, a riducire le situazioni illazionate dalla violenza, dall'occhio. Se diventiamo operatori di pace, possiamo sconfiggere la violenza, anche la violenza verbale con parole di volontà. Se abbiamo un cuore puro, possiamo fare risplendere la luce della speranza nella notte più oscura del mondo. Certamente nei vostri programmi, nei vostri itinerari, avrete accostato tante volte le beatitudini di Gesù. e le beatitudini del mondo. Il mondo dice beati lenti, perché possono soddisfare tutti i loro desideri. Il Vangelo dice beati pochi. Il mondo pensa e dice beati forni, i violenti, perché impongono la loro volontà a tutti, perché si impadroniscono di ciò che vogliono. Il Vangelo dice beati i viti. Il mondo pensa e dice beati coloro che rigano, che si godono la vita. Cristo dice beati coloro che si affliggono, che si fanno caldo della flessione degli altri. il contrasto non può essere più grande. Ma chi ha ragione allora? Cristo o il mondo? Per l'affetto che portiamo a Gesù, per il fascino che la sua persona esercita su di noi, noi diciamo ha ragione Cristo. però a volte è difficile capirlo. Ed è difficile capirlo, perché non si tratta semplicemente di proclamare una verità, di aderire con la ragione a questa verità, ma di farla risplendere, questa verità, in noi, con i nostri pensieri, con le nostre azioni, con le nostre scelte quotidiane. ed è proprio nelle scelte quotidiane che sperimentiamo che Gesù ha ragione. Vorrei illustrare semplicemente la prima delle beatitudini, lasciando a voi poi di approfondire le altre, le altre poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Distintivamente noi vogliamo possedere, credendo di trovare così la felicità. Più ricchezze abbiamo, più cose abbiamo, più ci sentiamo soddisfatti. E quindi, e quindi felici diciamo. In realtà, l'istinto di possedere, ci porta alla nostra infelicità, perché ci rinchiude nel nostro egoismo. Inizialmente può essere vero, soddisfatti, perché soddisfatti, soddisfatti e quindi felici, ma il passo ad essere soddisfatti è angosciato, è breve. perché quando uno si sente soddisfatto dalle cose, si chiude in se stesso, si chiude nel proprio egoismo e lo prende l'inquietudio. Ecco, l'istinto di possesso che ci rinchiude nel nostro egoismo, ci separa dagli altri, ci oppone a loro. pensiamo a quanti litigi, a quanti discute, per ragioni di interesse, a quanti inquietudini avvengono la vita. E allora, alla fine l'uomo si trova insoddisfatto, perché l'uomo è chiamato a lavoro, è chiamato a donare se stesso, a realizzare la sua felicità nel fare della propria vita un dono di amore. Beati poverini in spirito, la povertà evangelica non consiste nel non avere niente, ma nel riservare tutto, riconoscendo in ogni cosa un dono del Padre, un mezzo di unione con i fratelli. non voglio essere in altre parole proprietario di quello che ho. Tutto quello che ho va restituto.